Oggi mi preparo con voi per andare a votare e non solo, visto che è domenica mattina me la sono presa molto con comodo e dopo una bella doccia rigenerante ho iniziato a prepararmi capelli, trucco e outfit. Ho scelto jeans di Abercrombie e maglia di Zara con gli strass che mi piace tantissimo. E una volta preparata la testa elettorale ho deciso di indossare queste scarpe di Jimmy Choo che hanno sempre gli strass e quindi riprendono la maglia e secondo me si abbinano perfettamente all'outfit. E sono uscita per andare in comune. Dal terrazzo del mio comune di solito si vede un panorama pazzesco, oggi purtroppo però è ancora parecchio nuvoloso e quindi non rende tantissimo. A votare ho impiegato circa una decina di minuti perché non c'erano tante persone in coda e poi sono andata direttamente a casa dei miei suoceri per pranzare tutti insieme. Con noi a pranzo c'era anche mio cognato e mia suocera ha preparato delle lasagne buonissime. E anche il polpettone con il purè che mi sono dimenticata di filmare come dolce brownies. Grazie.